Non ho saputo questa mannà, madonna mia è possibile che uno ti deve dire sempre tutto, ma se non lo dici sul giornale c'era scritto da chiuso, andiamo a Charme Shake, 15 giorni e 3 notti, come 3 notti, l'altro 12 notti, te so, a sto prezzo mica si poteva dormire tutte le notti. In Svezia se una donna trova il marito a letto con un'altra, chiede scusa, chiude la porta e li lascia finire, va in salotto, li aspetta e quando hanno finito se ne discute tutti insieme razionalmente per cercare di capire quali sono i reali problemi della copia. In Sicilia Se una donna trova il marito a letto con un'altra, chiede scusa, chiude la porta e la amura. Una puttana mamma, hai capito? Una puttana mamma. Bene, tutto a posto, ma dov'è l'altro passeggero? Sono io. Come lei viaggia con due biglietti? Sì, prendo sempre due biglietti, ho il posto 24A e 24B, così ho la garanzia assoluta che accanto a me non ci sono vicini noiosi, petulanti e piagnucolosi. Ah, bene, cancello 14, imbarco immediato. Grazie. Segui, segui me, segui un consiglio ad un'amica. Tu adesso fai una cosa che ti appartiene, una cosa tua, una cosa che non fai da tempo, tipo la doccia. Ti fai una bella doccia, ti depili, perché si vedono, è un po' se vedono le, eh, sbucano fuori dai jeans, un po' se vedono. Eh, lo so, l'ho lasciati un po' lunghi perché volevo fare la ceretta, ho capito, la ceretta sì, ma lunghi che se deve una rotola come la prolunga del telefono è un po' troppo le.